Primo posto consolidato, undicesima vittoria consecutiva in Serie A e imbattibilità casalinga mantenuta e con il ritorno del pubblico al 100%, ci sono tutti i presupposti che la Sega Fredarena diventi un fortino, almeno in Italia. Milano, in partita solamente fino all'intervallo, è stata priva di ben 7 giocatori, tra Covid, infortuni e problemi extracampo, ma la Virtus vista ieri pomeriggio è sembrata una squadra scherza sassi, lo dimostrano i 22 liberi segnati su altrettanti tentati. Senza Samson fuori per turnover, sono JT, Wims e Cordinier a prendersi la scena e a suggellare l'83-65 finale. Ma come non citare Teodosic, autore di Assist Stellari? Stasera Milos era in fantasia, diciamo. Milano oggi aveva un handicap perché gli mancavano giocatori, ma anche noi abbiamo avuto partite che ci mancavano giocatori, quindi una volta le dai, una volta le pigli, è normale che sia così. Comunque loro hanno quasi 17 giocatori, non è che quelli che c'erano oggi siano giocatori, siano delle scartine. Si lecca le ferite, invece, la Fortitudo, che perde a Venezia 77-72. Nonostante le prove opache di Aradori Felden, i bianco-blu vincono tre quarti, tutti 17-19, ma nella seconda frazione, la Reier, senza Dei, Vitali, Morgan e Tonut, ha realizzato un parzello di 26-15. Se i migliori in campo sono Frazier, Karolan Populos, Fantinelli e Procida, usciti dalla panchina, è tutto un dire. Oltre il danno, la beffa. Treviso, alla prima concocio Marcelo Nicola, ha infatti espugnato il campo di Varese, se l'enda quota 20 punti in classifica, staccando l'Aquila di due vittorie. Non c'è però tempo per disperarsi, perché mercoledì incombe il recupero della sedicesima giornata. La F farà visita alla VL Pesaro. La Virtus ospiterà Trento. Puntualmente, ad ogni minimo, disattenzione ci ha punito con dei canestri anche importanti, anche in dei momenti della partita che potevano indirizzarla diversamente. Nel complesso abbiamo sofferto troppo la percentuale di Venezia nell'arco dei due punti. Sapevamo che, soprattutto con la presenza di Watt, avremmo potuto soffrire questo aspetto, però concedere quasi il 65% da due per una squadra come noi, per fare il colpaccio che a Venezia è troppo. Anche la nostra percentuale da tre punti sicuramente non ci ha aiutato.